La salute del nostro pianeta è in pericolo. Molto e soprattutto presto bisogna fare per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e per la diffusione di sistemi per la produzione di energia pulita. Un impegno che chiama in causa ciascuno di noi e le imprese, sia per proprio conto che come veicolo di promozione e adozione di nuove tecnologie, possono fare molto. Il noto climatologo Luca Mercalli, ospite della Scuola di Politica ed Economia, ha espresso il suo punto di vista su questi argomenti, riflessioni ispirate dalle condizioni in cui versa oggi la Terra. Il pianeta non sta tanto bene, ma quello che ci preoccupa non è tanto il pianeta in sé che ha 4 miliardi e mezzo di anni di esperienza e ne ha passati di tutti i colori, ma è l'umanità, perché la nostra specie si è sviluppata in un pianeta che funzionava in un certo modo. Se noi compromettiamo il funzionamento della natura, i primi a farne le spese siamo noi. Preleviamo troppe risorse e produciamo troppi rifiuti, denuncia il climatologo Luca Mercalli. Noi viviamo grazie a una natura che funziona in un certo modo, per esempio in grado di depurare i nostri rifiuti. Se noi produciamo troppi rifiuti e preleviamo troppe risorse, a un certo punto questo meccanismo si inceppa e ne facciamo le spese noi perché da un lato abbiamo meno prodotti su cui basare il nostro benessere e abbiamo al contrario un aumento eccessivo dei rifiuti che oggi generano due problemi fondamentali. Il primo è il cambiamento climatico e il secondo è l'inquinamento che nuoce la nostra salute. Infatti lei diceva stiamo saccheggiando il capitale naturale, dovremmo invece tornare nei limiti di sostenibilità del pianeta, quindi programmare una decrescita. Ecco un termine che può essere allarmante, suona piuttosto male. Spieghiamo che cosa vogliamo dire con decrescita. Decrescita è un termine che è entrato in una moda a mio parere per sollecitare una riflessione, non per diventare un modello, intanto perché non è un modello particolarmente sviluppato, è qualcosa che si sta generando con l'esperienza di uscire invece dalla crescita infinita che non è più possibile. Il punto fondamentale come reazione al modello economico attuale è che in un mondo dalle dimensioni e dalle risorse limitate come è il pianeta Terra non è possibile una crescita materiale infinita, per ovvie ragioni. Allora noi dobbiamo progettare un sistema che in termini di decrescita vuol dire sostanzialmente aggradisce lo spreco e l'eccesso laddove non è sostenibile, genera però equità. Ecco, noi oggi dovremmo quindi recuperare poi quello che è un buon senso fondamentalmente, avere la giusta misura per un livello dignitoso assicurato a tutti. Possiamo ancora farcela, ma il tempo per correre ai ripari è sempre meno e a preoccupare, secondo Mercalli, sono l'inerzia del popolo e l'indifferenza di chi governa e programma allo sviluppo rispetto ai segnali d'allarme e alle previsioni, rivelate sia azzeccate, disponibili già dai primi anni settanta. Il passato è passato, ma progettiamo almeno un mondo del futuro dove la sostenibilità sia reale. Per farlo l'Italia è avanzatissima, perché noi abbiamo ingegno, abbiamo piccole ditte che hanno fantasia, che hanno pratiche di sostenibilità di eccellenza mondiale, che magari vendiamo agli altri, magari le vendiamo ai paesi del nord Europa che poi le appiano, applicano. Il nostro problema italiano è la coerenza, la mancanza di coerenza. Noi abbiamo le pratiche migliori come delle piccole isole locali e poi attorno un oceano di indifferenza o addirittura di qualcuno che rema contro. Se noi avessimo un governo che prende i migliori esempi che ha in casa e li trasforma in un obiettivo dell'intera nazione, dell'intera società, probabilmente saremo uno dei paesi più sostenibili della terra e venderemo la nostra esperienza agli altri. Perché non lo facciamo? Perché si tenta, come sempre l'italiana, di tenere il piede in più scarpe e di accontentare tutti, ma nei problemi ambientali questo non funziona, perché la dieta o la facciamo tutti o non abbiamo il risultato e la malattia non guarisce.